Amici, è il momento di proseguire con Mario Sunshine. Stiamo... Merda. Stiamo sistemando gli specchi. Ok. Ah, cazzo! Ecco perché non mi andai. Ok. Merda, qua sono tre, però. Io non ho tanta acqua, eh. Allora. Dai. 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 Bella. E ora? Madonna, questi pantaloni è terribile. No, fammi andare giù con le gambe. Niente. Nella stratosfera. Ok. E anche questa è andata. Allora. Allora sei stronzo. Non ci sono altre parole. Lei stronzo. Allora, prima di andare lì... No. 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 Prendiamo. Esatto. Secondo me, adesso... Un altro me lo sblocca. Forse devo arrivare a otto. Ah, c'è la dieci. Non so. Non so. Nessuno mi dice un cazzo, quindi. Vai. Delfine news. La nave mercantile ha ripreso la sua attività. La sua attività di trasporto della frutta. Ma sono finiti i mondi, non credo. Un po' tragedia. Allora, aspetta che ce n'era una. C'era un ingresso sottopranio quassù. No. Ok. Eccolo. Volevo... Esplorare un attimo. Finiti qua? No, che posso andare anche di qui. Ok. Ok. Non so bene come arrivarci Forse ho un'idea però Ma è tipo qui dentro? No Boh Vediamo Non mi ha convinto questa cosa Non mi ha convinto Qua giù Qua giù per forza No Ah ok ho capito dove siamo Non cazzo Non capisco se ci sia proprio sotto acqua Ma proventiamo qui amici Vediamo se ce n'è Vabbè ce n'è sicuramente un'altra Il mistero della grotta dei cogli Dove sta? Ok Se facessi così No secondo me ci sono altri Altri mondi Eh tre mi sembra veramente pochini eh Ma allora sei stronzo Tre mi sembra veramente pochini Quindi Quindi guardiamo Cioè quindi Quindi andiamo Però Merda No 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 Ah ma c'era da qua ma doveva fa' un culo Va vaffanculo Guarda me uno Non è di qua che devo andare Sono troppo forte con questo video game Levo Cazzo ci arrivo Forse da lì Forse da lì Allora Proviamo da qua Ok Vai Va bene Vai No Benissimo Qui non so Perché Mi sia preso così tanta paura Intanto accado No Allora Devo fare Devo fare No Bravissimo Vai Bravissimo Veramente il più forte del mondo E allora Sisto Ah Devo rifare un altro di questi Questo Sembra Infamino Corto L'ho detto Ok Merda No No Si è incastrato nei cubi Ma si è incastrato nei cubi Ok Si è incastrato nei cubi Ci posso fare ben poco Ok Ok bene. Ok, ok, bene, e prendila. Vaffanculo. Non rischio. Bene. Un'altra pesa. Vai, salvo. Ok. Allora. Ho visto un barche in lontananza, chissà dove la diretta. Sì, non credo di poterci andare, ecco. Qui? Dimmi. Non posso crederci. Qualcuno ha sporcato i muri di questa splendida città. Poi cosa diamine che significa quella M? A proposito, non credo che ho visto da queste parti. Mi stai componendo con qualcun altro? no. Ok. Secondo me. Ok. Bene. Dicevo. Via. Bene. Che culo. Ottimo. Però non so commentare lì dentro io. Forse c'è qualche percorso sottomarino. Vediamo il terzo episodio di questo. È stato marino sottomarino magari. Il sole custode è ingabbiato. Io non capivo come, quando? Ehm, no. Devo fare tutto un percorso. Bello. Mi è piaciuto quest'inizio. Degno di me che gioco a Mario. Ok. Ok. Bella lì. No. Non mi fido. Poi devo fare quello. Poi improvviso completamente. Ma proprio completamente. Ok. Ok. Ah no. D'altra parte. Cazzo. Ok. 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 Ho fatto una cosa rischiosa. Ok. No. Merdo. Ma mi hai sparato. Ma non è valido. Ok. 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 è lì. E poi? Che cazzo di giro devo fare per arrivare da lui. Cioè dal sole. Tutto da capo Tutto Tutte le mie belle scene Buttate il cesso Completamente Dai Sto decisamente abusando di questa cosa Me ne rendo conto Ok 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 Ora Andiamo con più cautela Ok 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 va bene dimmelo va benissimo perché prima non ti era piaciuto quindi aspetta ok fanculo ma è impossibile o comunque è molto 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 difficile io non sono vabbè mi è rimbalzato ok maio è il tuo momento per aggrappare ok ok no ok che caccio è sbucato mistero assoluto mistero allora il problema più grande di questa cosa è che è difficile utilizzarlo con con precisione quindi va bene aspetta quindi è complicato ok 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 bene bene vedi però gesù praticamente impossibile e sto anche finendo l'acqua quindi mi devo pure calibrare normalmente con i salti qui poi noto che quella cosa non è coperto cioè non è a fondo non è a fondo quindi quando cioè se mi sono stella se manco la stella parliamo italiano se manco la stella lo sole che vuoi fare vuoi aprirmi la gola no e ma qui la devo prendere per forza cazzo ho fatto la scatola coglione io ok no ok non è bucato non è già redleto bene non lo sono sentita ok ok tu che cazzo sei ok spruzzorazzo ma col cazzo adesso e invece non ho opzioni però ah aspetta per o meno madonna se ti deve morire la mamma la mamma poi come ho detto Cristo ancora no 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 vabbè fisco un giuro ho le mani sudate ho veramente le mani sudate odio quel cazzo di così di merda le portute no ma non ci arriva senza la fae cioè senza quell'altro non vi arrivo a meno che fate che è una lentezza in acquaio devastante questo gioco ma routine ok vediamo se ho un modo per ballare o comunque per ok va bene ok madonna Ok, un incubo a sta stella, c'è altro qui dentro? No, madonna, un sole, chiamalo come ti pare, un incubo, un incubo, certo che voglio salvare Ah però, un nuovo mondo a Delfinia, Delfinia News, la principessa Peach del Regno dei Funghi è stata nuovamente rapita, no, cazzo, e Bowser ci dovrebbe essere anche qui, no? Ah no, la principessa Peach è stata rapita, qui è strano, va bene, quindi adesso siamo al boss di mezzo, cioè siamo a ripuntare il suo gioco, credo. Ok, no? Ok. Ehm, non è lì dentro? Ok. Mario Kato. Ehm, non è lì dentro, non è lì dentro. Prossimabot Prossimabot